Controlli straordinari nella zona GAD di Ferrara a partire dal 4 settembre e per alcune settimane. E questo il progetto illustrato in conferenza stampa dal questore Antonio Sbordone e che la stessa questura di Ferrara effettuerà con la collaborazione del reparto prevenzione crimine di Bologna che invierà uomini e mezzi di rinforzo. Obiettivo utilizzare tutti i mezzi a disposizione delle forze dell'ordine per contrastare il degrado, gli episodi di criminalità, ma anche il senso di insicurezza dei cittadini che vivono in quella parte della città. Noi dobbiamo sicuramente provare a fare qualcosa di più di quello che abbiamo fatto fino adesso che non è poco secondo me, ma soprattutto dobbiamo dare maggiore continuità all'intervento. Per questo abbiamo chiesto la collaborazione non solo ovviamente delle varie articolazioni della questore di Ferrara ma anche di reparti che vengono da Bologna che ci devono dare una mano per dare appunto un senso di continuità al nostro intervento. E quindi verranno fatti i controlli un po' a 360 gradi, è così? Sì, abbiamo idea appunto di controllare gli esercizi pubblici, di controllare le persone, di fare una verifica sulla possibilità di allontanarli appunto da Ferrara, di applicare questi nuovi strumenti del dashboard urbano che sono previsti e di fare poi, di sviluppare anche un'attività investigativa più incisiva. L'operazione progettata dalla questura di Ferrara sarà preceduta dal prossimo lunedì 28 agosto dall'operazione Periferie Sicure, voluta dal Ministero dell'Interno e confermata in queste ore dalla Prefettura. Per una settimana toccherà anche Ferrara e vedrà le forze dell'ordine collaborare anche qui sugli obiettivi della legalità e dell'ordine pubblico nella zona GAD. Per la Polizia di Stato, ad esempio, questo significherà un impegno di due o tre pattuglie in più per ciascun turno grazie alla collaborazione, ancora una volta, del reparto Prevenzione e Crimine di Bologna diretto dal vicequestore Cosimo Mancini. In conferenza stampa, accanto al questore Sbordone e al vicequestore Mancini, c'erano il capo di gabinetto Pietro Scroccarello, il vicequestore Vicario di Ferrara, Francesca Montereali e Renato Angeletti, dirigente delle volanti. Dal questore è venuta anche una valutazione delle ragioni che hanno reso la GAD così problematica. Io ritengo che sia un'area abbastanza ristretta in cui c'è un grande numero di immigrati e che nell'ultimo anno sono diventati anche molti di più. Si aggiunge il fatto che molti non sono ferraresi, nel senso che non hanno residenza né hanno avuto il permesso di soggiorno da Ferrara, ma vengono da altre province. Quindi il numero è indubbiamente cresciuto e sono persone che non sono particolarmente impegnate in attività né lavorative né sociali, hanno un'indole anche piuttosto esuberante, sono inclini al litigio e generano sicuramente un'allarme sociale che va affronteggiata. Accanto a questo c'è una parte che è dedita a traffici illeciti.